... Voltiamo pagina l'inchiesta sui maltrattamenti alla casa di riposo Cosentino di Lago Negro. Lunedì gli interrogatori di garanzia per le tre donne finite nel mirino degli inquirenti. Intanto in paese ci sono preoccupazione e tanta incredulità. Umberto Avallone. Se l'aspettava questo... Non me l'aspettavo perché era un po' piena mia fiducia. Perché comunque noi siamo... Io sono da tantissimi anni, mia madre, qua in questa casa di riposo. Però no, 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 perché ci conosciamo tutti. Era come una famiglia. E una dei parenti degli ospiti della casa di riposo Maria Luisa Cosentino di Lago Negro, chiusa da ieri sera nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura che ha portato all'arresto ai domiciliari della coordinatrice di un'operatrice sociosanitaria e al divieto di dimora per un'altra operatrice. L'accusa è quella di maltrattamento a danno di alcuni anziani ospitati. Un fulmine a ciel sereno per i familiari dei pazienti. L'altrg3, ieri ho appreso questa cosa, a me non mi ha avvisato nessuno. Poi ieri sera mi hanno dato la conferma che veniva chiusa la struttura. Mi chiamano continuamente, le mie amiche, come solidarietà, però non lo so. C'è persone che noi conosciamo una vita. Mamma tiene 86 anni. Massimo, massimo, sforzare domenica la portiamo via con mio fratello. Lunedì ci saranno gli interrogatori di garanzia, ma intanto oggi nella conferenza stampa il capo della procura di Lago Negro, Gianfranco Donadio, e la titolare dell'inchiesta, Giovanna Le Rose, hanno definito i contorni di questa indagine, partita da alcune segnalazioni e poi in sinergia con i carabinieri di Lago Negro e i nuclei speciali NAS, NOE, NIL, andata avanti anche con intercettazioni e filmati. Comportamenti vessatori, sia fisici che verbali, divenuti abituali a danno anche di pazienti non autosufficienti e inermi, che tra l'altro non potevano essere ospitati nella struttura priva delle necessarie abilitazioni. Una brutta impressione, certamente, trovare carabinieri vicino ad un luogo pubblico oltretutto destinato alla cura degli anziani. È una cosa che ci ha letteralmente toccato, perché i vecchi e i bambini non si toccano.